Giancarlo Albera dei comitati, 30 secondi, cosa vogliamo dire a Obama e per i G8? Io credo senz'altro che la manifestazione avesse proprio la volontà di mandare un messaggio a Obama dicendo guardate che qua a Vicenza, oltre ad aver avuto altre problematiche, abbiamo questo problema che non è da poco per cui è giusto che lui si interessi. Dopodiché è chiaro che è degenerato fra virgolette un po' perché vuoi anche per un errore secondo me anche strategico di porre davanti le persone che probabilmente non erano proprio i cosiddetti cittadini come in altre occasioni e quindi può essere, però in ogni caso la finalità era proprio quella di mandare un messaggio perché dire che lo sviluppo di una città lo decide il cittadino non lo decide dall'alto qualcuno che non ha interesse, sì, migliaia di vicentini.